Benvenuti. La Chiesa nelle Grande Città. Con questo commento vorrei comunicare un'iniziativa per l'anno che abbiamo appena iniziato, la celebrazione a Barcellona di un congresso internazionale di pastorale nelle Grande Città, che è già in fase avanzata di programmazione. Si tratta di un evento che avrà luogo a Barcellona questo anno, però con una portata internazionale. Ho pensato sempre che i pastori delle Grande Città dovremmo aggiutarci di più. Durante le congregazioni generali anteriori al conclave parlai del tema con il cardinale Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di una Grande Città come Buenos Aires, e coincideremmo su questi interessi e preoccupazioni. Per questo ho iniziato la preparazione del congresso. Un primo passo, previsto per il prossimo maggio, sarà un convegno di sociologi, teologi, pastoralisti ed esperti di azione pastorale, su come presentare il Vangelo e la Chiesa nei grandi agglomerati urbani. Dopo aver ascoltato gli esperti, verrà il secondo passo del congresso, un incontro tra i vescovi e i vescovi per riflettere in particolare sul modo di applicare alla vita pratica gli orientamenti proposti degli esperti. Che cosa vogliamo con questa iniziativa? Semplicemente migliorare la vita cristiana nella grande città. Sappiamo che la questione ha preoccupato e interessato sempre il nostro Papa Francesco come arcivesco di una grande concentrazione urbana, conosciuta come la Grande Buenos Aires. Lui ha pensato e ha scritto su questo. Nell'udienza che mi concesse il 6 settembre passato, mi diede una relazione su questo tema che lì avevano mandato da Buenos Aires e che aveva conservato per me pensando al nostro congresso. Una prova di questo interesse del Papa è ciò che dice nei numeri 71-75 della sua exhortazione apostolica dal titolo La gioia del Vangelo. Considerando questo fatto, il desiderio delle arcivescovi e i vescovi riuniti a Barcellona è che una volta finite le riunioni siamo accolti per il Papa e possiamo ascoltare i suoi orientamenti. Potremmo dire che non è facile per la Chiesa il lavoro pastorale nelle grandi città. Francesco parla della sfida della cultura urbana nei numeri dell'exortazione Evangelii Gaudium che ho citato. Tuttavia la Chiesa non può dimenticare una cosa importante, che le prime comunità cristiane erano urbane, nate nelle grandi città di quel tempo e che solo in seguito le comunità cristiane sorsero nelle zone rurali e cosiddette pagus, dove il paganesimo fu più persistente. Se devo dire con quale scopo ci auguriamo di portare a termine questa iniziativa, non trovo parole migliori di quelle del Papa Francesco nella menzionata exortazione. Dice il Papa, dobbiamo riconoscere la città con un sguardo contemplativo, cioè con un sguardo di fede, che scopra il Dio che abita nelle sue famiglie, nelle sue strade, nelle sue piazze. Dio vive in mezzo ai cittadini, promuovendo la solidarietà, la fratellanza, il desiderio di bene, di verità e di giustizia. Questa presenza non deve essere costruita, ma è scoperta anche se a tastoni in maniera imprecisa e diffusa. Arrivederci. Grazie. Grazie.